Come ogni anno, il 19 dicembre, la città di Teramo celebra la festa di San Berardo, suo patrono, con la partecipazione della comunità ecclesiale e il coinvolgimento delle autorità locali. In mattinata si è svolta la solenne celebrazione presieduta dal Vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi, con il clero e i religiosi della diocesi di Teramo Atri. Nel pomeriggio l'appuntamento è con la solenne processione con le reliquie di San Berardo e la lettura della leggenda e il rinnovo della professione di fede. Si termina con la concelebrazione eucaristica, durante la quale avranno luogo l'offerta del cero a nome di Teramo da parte del sindaco Gianguido d'Alberto, l'esecuzione dell'inno di San Berardo del maestro Nicola Dati e la benedizione della città con le reliquie del santo. Per quanto riguarda invece la parte profana, per l'intera giornata del 19 dicembre Teramo sarà invasa dalla tradizionale fiera di San Berardo, arricchita quest'anno dai lavori artistici degli alunni delle scuole teramane esposti nei punti strategici del centro storico. Un lavoro corale, curato da provincia, comune, ufficio scolastico, comitati di quartiere e associazioni, tutti grati al Vescovo Santo che salvò la città dalle invasioni straniere. Le scolaresche coinvolte sono quelle di tutti gli istituti di Teramo e i bambini hanno lavorato sulle tracce di San Berardo, quindi riscoprire la figura di questo santo e la sua identità è l'importanza per noi, per la nostra vita oggi. Hanno lavorato in laboratori, bambini dagli 8 ai 10 anni, producendo lettere al santo, testi poetici, disegni e manufatti con tecniche varie.